amici di youtube altra ripresa direttamente dal lago di como esattamente dal comune di bellano con questa splendida giornata serena qui in fondo vediamo il lungo lago e davanti a noi abbiamo anche l'imbarcadero attualmente chiuso anche perché ci sono pochissimi mezzi di navigazione in circolazione qui alle nostre spalle abbiamo questa stella illuminata in questo momento è spenta perché c'è la luce del giorno alla sera invece questa stella si illumina su tutto il territorio di bellano e inoltre se si percorre l'altra sponda della zona di menaggio che abbiamo davanti a noi guardando da questa parte la si vede illuminata che illumina tutto il lago questo è il molo con le barche ferme e qui davanti a noi parte del paese di bellano saluti da sandro